Il Consiglio Comunale è calendarizzato per domani, vediamo se si riesce domani a chiudere, ma comunque noi andiamo per chiudere, cioè tra domani e se c'è necessità di un altro consiglio lo faremo a breve, ma non vogliamo utilizzare questa proroga all'infinito del governo, ogni volta si dice che bisogna rispettare la tempistica ma poi non lo si fa, vi ricorderete tutti che l'anno scorso la maggior parte dei comuni d'Italia ha approvato il bilancio a novembre e dicembre, noi lo facemmo a settembre, quest'anno si diceva che assolutamente non si poteva prorogare, già c'è la proroga al 31 luglio, adesso quest'altra proroga sui tributi, così non si riescono a governare le città, perché arriviamo in autunno e si ha problemi di cassa ovunque, noi l'altro giorno siamo stati a Roma con Lanci, con Fassino, al Ministero dell'Interno, c'era il Ministro, il Vice Ministro, il Sottosegretario, abbiamo detto che i comuni rischiano di andare in crisi di liquidità, ma tutti, non è un problema di Napoli, è un problema che va dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, mi sembra che il governo al di là dell'enfasi di alcune affermazioni stia un po' sottovalutando questo pericolo e stia un po', non considerando una priorità, lancia i comuni contrariamente a quello che si era affermato fino a poco tempo fa, quindi ci auguriamo che non sia così, perché altrimenti si rischia parecchio e si rischia, come abbiamo detto più volte, la tenuta democratica nel Paese.